Musica Venerdì 3 giugno, sacro cuore di Gesù. È il 155esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 211 alla fine. Il sole sorge alle 5.24, tramonte le 20 e 54. La luna si leva alle 4.32, tramonte le 18 e 46. Si inaugura a Padova il monumento a Giuseppe Garibaldi, opera dello scultore milanese Ambrogio Borghi. Sorge sulla piazza già chiamata dei Noli, perché vi sostavano i vetturini pubblici, detti appunto nolesini. Le previsioni per domani. Persistente instabilità a specie durante le ore pomeridiane e su rilievi e zone limitrofe. Temperature in aumento rispetto a ieri. Musica 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 Grazie a tutti.